Ebbene, eccoci arrivati a Rocketman ed eccoci arrivati quasi al 15 gennaio con le nuove disposizioni editoriali, no, governative e autoritarie. Rocketman me l'ho persi al cinema, uscì, se non ho sbaglio, a fine agosto di un anno e mezzo fa. Dopo qualche giorno andai al Festival di Venezia e vi di Joker, ha che vedere questo film con Bohemia Rhapsody, con The Doors, di Oliver Stone, un'interpretazione pessima, quella di Val Kilmer, mi spiace per lui, insomma, mi sta passando delle belle, anzi delle brutte, perché è ammalato di cancro e noi ci stiamo ammalando di depressione. Ma io in realtà dalla nascita ne sono affetto, sto qui a letto a riflettere, sorrido malincoricamente. La Bobby De Niro diceva una volta in America, ci sarà la vita. Vabbè, dai, alziamoci e leggiamo questa recensione, che con tutta probabilità, essendo già presente sul sito da Roma View Cinema, non sarà inserita in quanto considerata doppione. L'ho inserita sul mio Mollola Lynch, perché gestisco, io sono il creatore, non di questa umanità oramai sterminatamente terminata di alcuni blog, in cui mi diletto a raccontarvi i miei aneddoti, a elucubrare in merito, spesso, alla tragicomedia umana. Ma arriviamo, senza perderci in chiacchiere, intanto ho inserito questa recensione su FinTV, come Nick79, Nick Cage, no, Nick con la K, 79 Detective Noir, Nick che furoregge in questa serie televisiva Netflix, che però non ho intenzione di vedere, i suoi siparietti in cui si imbroda nell'essere granghignolesco. Fuck! No, no. Allora, ebbene, finalmente, volete un falotico serio? Poderoso o ponderoso? Riflessivo o serioso? Va bene, va bene. Un po' di contegno. La dignità. Non essere indignitoso, altrimenti sarai giudicato ignominioso. Ebbene, finalmente ho visto Rocketman, disponibile su Netflix Italia, in questi giorni di protrattosi, lutto mondiale, e tutto il mondo è oscurato. Altresi definito Covid-19, vado a dire un complotto, non per essere negazionisti, ma non dobbiamo essere neanche possibilisti, non ci offrono possibilità di pensare il contrario. Quindi voglio contrariare coloro che mi considerano, mi hanno sempre reputato pazzo, non hanno mai capito di me un cazzo. Ecco, e con la scusante delle terapie intensive, intensifica gli stati, collettivi, planetari, no, anzi, stadi, dove però continuano a giocare le partite di calcio, dittatoriali ineludibili, reiterari, mincibili decreti abitualmente improntati, al solito schiavismo schiacciante, l'apparente umanità debole e impotente. Ovvero, appena l'uomo s'affloscia proprio, s'appropria di maggiori libertà mondiali, viene messo psicologicamente e non in quarantena, al fine di demotivarlo, indurlo a credere che le sue fantomatiche, inalienabili espressioni dell'anima, siano stati, insomma, viene alienato proprio. E poi, gli dicono, eh, ti sei arenato, per forza, hanno bloccato ogni tuo essere slanciato, siano state, per l'appunto, solamente una fottuta, chi viene destinata a sbriciolarsi, decisamente ad infrangersi, contro il Moloch, ma lo che di chi sempre impererà, soffocando ogni puro slancio, per l'appunto, vitale. Ecco, questo film ne calza, a pennello, ma che c'entra, c'entra? Sì, in merito, non è fatto perfetto, anzi, molti punti di fetta, narrativamente, spesso insopportabilmente, agiografico, non a magnificazione, destinata, comunque, ai fan, di Elton John, anche a coloro che non lo sono, ma guardando i film, potrebbero appassionarsi a Elton, essendo così glorificato, e descritto in questo film, e oltre modo retorico, segue e persegue, scopiazza il canovaccio, il canova no? Gianni O? Eh? Del musical biopica, la Bohemia Rhapsody, allora chiariamoci, New York, New York, di Martin Scorsese, con Liza Minnelli, sua ex, non è un musical, anche se vorrebbe, omaggiare, forse, un buon son, insomma, il padre, perché, il musical, adesso lo spiegheremo, è un film che contiene, dei pezzi musicali, De Niro, imparò a suonare sassofono, no, forse, Richard Gere, di Cotton Club, di Francis Ford Coppola, allora, Bohemia Rhapsody, perché non hanno, Bohemia Rhapsody, che coraggio però, intitolare un film così, stimabile alla produzione, di De Niro, non accreditato, e di Jay Rosenthal, dove essere diretto, con, Sasha Baron Cohen, forse più somigliante, a Freddie Mercury, sì però, lui è un comediante, non sa ballare, ecco, ecco, dove essere diretto, da Stephen Frears, il regista, di The Queen, ecco, la regina, c'entra in questo film, film di Brian Singer, l'allievo, i soliti sospetti, ma è completato, da Singer, insomma, dal cantante, Singer? Il cantante, stesso, soppiantato, anzi, rimpiazzato dal valente, coreograficamente, infatti, l'incipit, veramente, travolgente, più fantasioso, e immaginativamente, fantasmagorico, Dexter Fletcher, per volontà della produzione, Fletcher, da non confondere con lo stretching, probabilmente praticato da Rami Malek, per essere così, ossuto, smunto, per dimagrire, ma forse è proprio innatamente magro, lui, con uno strepitoso, funambolico, Tarot Edgerton, da confondere con Joel Edgerton, lì c'è la D, la D di Domodossol, al top del suo attoriale, Eclitismo, Eclitismo, formidabile, ecco, se Rami Malek, dissomigliò parecchio, dal copiato Freddy in Mercury, da non confondere con Freddy Krueger, si scrive Freddy, dicevo, Bohemia Rhaps, perché non hanno intitolato, questo film, Innuendo, forse l'album più bello, Freddy, da non confondere con Freddy Krueger, di Nightmare, sì, però, il look, di questi, denti da castore, di Rami orrendo, Simil Babau, ecco, che c'entra il Babau, il suono onomatopeico, della trare, della baiare, perché, ho detto che è identica con il, ma no, no, Freddy, I, E, O, U, Mercury, parimenti, e Giorgio non possiede propriamente, diciamo, gli stessi tratti fisiognomici, e corpore di Elton John, c'è una differenza sottilissima fra, da non confondere con la sottiletta comunque, fra fisiognomico e fisiognomico, la fisiognomica, diciamo, è quella scienza, mai veramente diagnosticata, appurata, tale, certificata, insomma, che presume, di, conoscere addirittura i tratti caratteriali, c'è proprio un'esplorazione lombrosiana, psichiatrica, di una persona, attraverso i suoi lineamenti, fisici, e quindi anche psichici, ma che stronzata, allora, la fisiognomia è quella, e a livello fisiognomico, gli assomigli, allora, corporei, corporei, potevo anche utilizzare corporali, di Elton John, allora, non mi voglio accorpare a voi, né accorare, e accordare a voi, ok, a proposito di corde vocali, e di uomini, dall'anima sesquipedale, scorati, cioè, non scoraggiati, neppure scoraggiati, non allineati, ai soliti, cori, cori, un po', alla dante allighieri, nel senso di cuori, ha, alla pari di Malek, eh, certo non è bravissimo, dunque, lasciamo stare per piacere certi discorsi, se un attore fosse uguale in tal caso, a un cantante, e o, a dei cantanti, ne sarebbe un sosia, un ridicolo clone, quindi, io voglio assomigliare solo a me stesso, no? Voglio rinunciare, al, la simbiosi, del sembiante, appiccicatomi addosso dagli altri, che non conoscendo la mia anima e quello che so, vorrebbero, proprio, mh, fisioneomicamente, cioè, no, giudicarmi dall'apparenza, e quindi, ma, mh, io ho capito come sei fatto, ti ho inquadrato, sei fatto così, sì, sì, certo, certo, imparassi a giudicare se altri, a differenza, di questo, miglior amico, di Elton, nel film, eh, quando imparerai, a non mentire a te stesso, miei bugiardi, miei mentitori, vorreste essere mentori, ma, 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 sono noioso? Sono barboso? Eh? E allora? Posso essere anche giudicato, delizioso, per chi mi considera amoroso, quindi, non siatemi faziosi, è chiaro? Allora, ecco, qui si parla di identificazione, di specularità simbiotica, perfino pregna di osmosi, eh, avete studiato la biologia? Eh? Che cos'è l'osmosi? Il rapporto osmotico, qualcosa che potrebbe assomigliare, a questo stato in cui viviamo, senza fotosintesi clorofiliana, perché l'ossigeno, respirare all'aria aperta, ci deve essere permesso, ma se ci disboscano, diciamo così, ecco, metaforica e metacinematografica, vale, caca, ficca, vale, 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 prendendolo da dentro e tentando di rivificarlo al massimo delle sue ammirabili o mirabili possibilità, cercando possibilmente di riprodurne le movenze, di imitarne addirittura non solo il cantare, bensì anche il suo respirarlo, nell'anima e con pieno ardore introiettarlo, nella sua espressiva mimica, così, in maniera flemmatica, se vuole, ecco, recitare una parte, dove ci vuole un certo aplomb, oppure diaframmatica, e qui il pentagramma, il diagramma dell'alzare la voce, no, oppure, no, no, l'elettroencefalogramma dovrebbe essere praticato, ma basta, 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 allora, tuffandosi nella sua dinamica, anzi, nel suo incarnarlo, al contempo trasfigurarlo, darsi emotivamente dinamitardi, il dinamismo del performer, in formato actor studio, aggiornato ai tempi degli odierni musicarelli furbetti, un po' leziosi, ma comunque a loro modo godibilmente spasmodici e coinvolgenti, se vi piace questo film, vi consiglio anche un film molto particolare, che hanno visto in tre persone, io sono il più grande critico di teatro di cina del mondo, come bevi la, beva l'acqua, Christopher Walken, di un film, di John Turturro, sono un illuminato, film illuminata, c'è un altro film, c'è Christopher Walken, di John Turturro, è un musical anche quello, allora, è musical, genere particolarissimo, in cui dal nulla i protagonisti interagiscono in modo, in modo? Amiccante con noi, spettatori a modi, Larry David, di Basta che funzioni, Woody Allen, Docet, La Rosa Purpura del Cairo, a un certo punto, così, ma molti spettatori infatti non amano, i musical non sono molto amati, perché la gente dice, ma che sta succedendo? Non capiscono, né il cinema di Woody Allen, né i musical, che sono un genere invece apprezzabilissimo, creando un effetto straniante, spesso mirabolante, trascinandoci, si spera nel vortice di blues brothersiane, emozioni ipnotizzanti, incantevoli e briose, vorticose e brillanti, Edgerton ciocchieggia, l'occhiolino, occhiolino, sì, tu ti chiami lino, ci lancia, anzi, occhiaie, sì, perché quello era così sfigato, si faceva le seghe, e poi si guarda che perderai la vista, gli occhi, le occhiaie, da Jim Kelly, ma comunque ho sempre preferito a questo Jim Kelly, Jill Kelly, ex pornattrice, adesso, di, singing in the rain, mi piace Francesco Gabbani, pantarei, occidentali scherba, singing in the rain, in versione rutilante da musical scoppiettante, però non sempre esaltante, attratto inotevolmente, e perfino mielosamente disturbante, si abbonda qui di romanticismo, ecco, dicevo, qui abbiamo anche il re di vivo, cresciuto Jimmy Bell, quando è bello, bello, con questo capello lungo, di Billy Elliot, a me dissero, Stefano, sei un po' diverso, perché non fai il ballerino, ma cosa fai, perché sono quelle scappe, sono delle ballerine, e lo sceneggiatore, Lee Hall, è lo stesso di Billy Elliot, per l'appunto di War Horse, di Spielberg, a proposito di Spielberg, che attendiamo la sua versione musical, remake, di uno dei musical più famosi della storia, West Side Story, Spielberg è un genius, quindi se considerate il suo cinema infantile, non avete capito un cazzo della vita, perché la vita non è, solo questo porcile, chiaro? Il film dura due ore e un minuto, arrotondiamo a due ore, e la chiudiamo qui, prima dei titoli di coda, infiniti, sì sì, perché poi, quindi dura circa un'ora e cinquanta minuti, compresi i titoli di testa, di cazzo che sei tu, che durano pressapoco cinque minuti abbondanti, o parte in più, vabbè, sì, questo film del, vabbè, basta però, il film inizia, finalmente, con Edgerton, Elton John, all'anagrafe, Reginald, ma cos'è quello di, Kenneth Branagh, beh, anche lui, no, Dwight, il quale, vestito di palandrana, da ignobile joke, come questo ignobile joke di Nicholas Cage, no, no, joke, Joker, piaciuto il joke de parole, vivente con tanto di corna diaboliche, disperatamente si reca a un ritrovo per anonimi depressi cronici, confessandoci spudoratamente ogni suo trauma, dichiarando fra il vanna glorioso, il patetico più mieloso, imbarazzante, qui sono ripetitivo, ho già usato, me mieloso, mieloso, è suchevole, il mio modo di scrivere, no, è imbarazzante, che in vero, malgrado l'imane successo avuto nella vita, e sì, non è per nulla soddisfatto della sua persona, guardati dentro, guardati allo specchio, you talking to me? in quanto spudoratamente e con enorme coraggio ammette di essere un cocaino man alcolizzato, un irredimibile sessuomano, un semi psicotico, quasi alafalotico, necessitante di psicofarmaci assai pesanti e debilitanti, no, Elton non è felice, è in purissima zona da Simone Cristicchi, ti regalerò una rossa, e troppo si impasticca, suo padre è un arido bastardo, affettivamente sempre assente, è un demente questo padre, è che dopo aver divorziato da sua moglie, madre di Elton, ebbe dei nuovi figli fan di Elton, il suo primo figlio, la moglie, andò con un tipo Elvis, Elvis, I love me and I love me too, questo qui è più un cuore selvaggio, è più, ecco, allora, poi citeremo Elvis, un uomo che tutte le citava, allora, Elton, forse il figlio migliore, l'unico ripudiato, questa storia quasi all'incompreso, il remake di Jerry Shatsberg con Gene Ekman, quello del comincivere, vabbè, vabbè, ricominciate qui, allora, l'unico ripudiato in quanto considerato diverso, invertito, un depravato, un debusciato, c'è malato di mente, uno spassato questo qui, e uno sbandato, un pagliaccio incapace di fare l'uomo, a me dissero, falotico, sì meno falotico, sì più uomo, sì, sì, se mai con la giacca, appena entri in un locale, oh, io sono un uomo, io qui me le tromba tutte, si capisce, non è, non è sistemato, adesso lavori, bravo, quanto guadagni, bravo, sei tutti i giorni a lavorare, e però non creerai le poesie che crea il falotico, allora sei un po', non è sistemato, un po' handicapato, un po' ritardato, sia per questo che oggi i sessantenni, i ottantenni, i cinquantenni, si bevono la cazzata del covid, perché sono tanto uomini che non hanno mai visto l'attimo fuggente, non hanno mai visto neanche, oh, capitano Uncino, c'è sempre Robbie Williams, I love my life, quella è Robbie Williams, I am free, soprattutto si preoccupano, se nella loro macchina qualcuno fuma e potrebbe bucare per colpa, poi si bucano pure, questi ragazzi, questi dovrì doggimi tempi, che a Bologna gli avrei dato quello lì, tanti quei scopacioni, della cera svolazzata sulla tappezzeria dei sedili posteriori, quello lì lo deve prendere nel posteriore, le fasi culo, capito con il salmonte? Posteriore è un'automobile che sicuramente non è d'epoca, non è una Rolls Royce da esporre a modi in limousine, di qualche film porno, questi film porno americani, ci sono sempre questi macchinoni, questi ficoni, ospitante milfone che dicono di sprezzare, di sprezzare ma su cui fra una tribuna elettorale, vista per noia, se vai con Tiziana Parella, che è anche quella, signorone, un paio di coscione, o per fare gli intellettuali di pseudosinistra con la panza piena, si accaniscono onanisticamente in formato privatissimo, segretaria, la segretaria, e cia cia cia, e sì che poi lì, due film, segretari, vabbè, comunque, e sì, sa la vita degli uomini veri, è dura, loro sì che si sono fatti il culo, semmai chiedendo ai loro tempi la casa popolare allo Stato che dicono di odiare, ecco, Elton John era povero, era timido, anzi affetto da timia, beh, quel ragazzo parla poco, però, è una cosa che ci arriva, è una vita, è incapace di normali relazioni sociali, preso per il popò, a morte dai suoi coetani, forse non belli, come Jim Bell, certamente stronzissimi e bulli, e poi vanno di moda questi porno, no? Big Cock Bull, adesso ci sono ancora i bellissimi, i miei bullissimi, e fu umiliato perfino da suo papà, insomma, lo preso da papà oppure da papà, oppure come direbbero in Toscana, da subabbo morto dentro, però dentro, mi sembra che questo sia dato morto, perché poi lascia la moglie e poi, forse con una, non so, forse avrà incontrato Emanuele Folliero, è lì, allora Elton è tutt'oggi, ha tutt'oggi uno sfigato mai visto, è un genio imbattibile, il film è banalissimo, spessissimo, superlativo, non è superlativo il film, e questo è il superlativo di spesso, no? E questo è spesso, eh? Lee Hall non possiede la finezza di Anthony McCurton, lo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody, dei due papi, e della teoria, insomma, di questo lutto mondiale, no? Del tutto. Io non sono Stephen Hawking, non sono Stephen King, sono Stephen Falotico, così, no? Allora, Edgerton, a differenza di Rami Malek, pur avendo vinto il Golden Globe, non fu candidato all'Oscar, però fu candidato agli SAG Screen After Girls Awards, all'Oscar, semplicemente perché Freddie Mercury fu un fraccio, che piaceva anche probabilmente a Manuel Ferrara, celeberto in attore per film destinati a un pubblico adulto, eh? Mentre Elton assomiglia a Carlo Verdone di Acqua e Sapone, cioè Acqua e Sapone, poi c'è anche Borrotalco, no? Con 5.000 chili di Rimmel, troppo glamour, insopportabile anche al compiato di David Bowie, a Michael Jackson, state sicuri che adesso faranno, anche realizzeranno dei biopic, anche su questi due, ma a differenza di Verdone, di viaggi di nozze, o Vapo strano, no, con te, no, Vapo proprio, perché sei una burina, e già non è ancora andata a letto con Natasha Awe, Awe, né con Claudia Gerire, quel film compagno di scuola, magnificato anche da Merighetti, tre stellette, ma un film patetico, per vecchietti, che sono nostalgici, dobbiamo guardare avanti, non al passato, questi scherzacci, supercazzo, da Mario Monicelli, basta, ecco, a proposito di Christian De Sica, di Burine, a Buzico, ma vedrà una bigliarte in tal culo, Donna talmente figa, Claudia Gerini, quella, sai quanti Gerini, però, eh, questo lutto protratto, si la profilassi, il profilantici, Donna talmente figa, che stette con Zabaglione, eh, sì, lì, lo zabaione, cibo, afrodisiaco, poi ci sono gli zampognari, vero? Ma suonano, cosa suonano? Lo zampone, la zampogna, l'ultimo dell'A, no, allora, regista da Academy of War, capite, Federico, capace di partorire una roba come Tulpa, oh, oh, film più brutto di un maschione come Jim Morrison, nell'interpretazione o scena di Val Kilmer, fuori parte assolutamente, perché, mascellone, fra l'altro, Ron Moss ha girato un fingolino a Benfi, è proprio beautiful questo qui, eh, sembra Dennis Quaid in questo film, tutto rifatto in viso, Elton non può vantarsi inoltre di aver avuto nel suo carnet, e mica un uomo di carne, attrici come Natasha Nice, Natalia Star, Natale, Natalia, ma questa non è molto natalizia però, però fa al festone, i festini a tutti, ecco, Natasha Kiss, Brandy Love, oppure una chiamata Diamond, la donna che ovula anche quando prepara le uova, eh sì, vi ricordate quella scena? grandi magazzini, per grandi peppicini, Lino Banfi, Renato Pozzetto, qui il cane è un, abbaia, no, no, è un babau, mi spaventa come Freddy Krueger, fa babau, 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 oh, mi fa la bua questo cane, cane qua, oh, la signora, no, venga, venga, sì, ma deve mettere solo una firma, venga, venga, con lei no, è brutta, venga, venga, sennò la melianese rischia di impazzire, venga, venga, oh, signora, mica paura che il cane è un bestione, ecco, come Val Kilmer, ecco, che proprio, invece Jim Morrison è un bellone, però era un po' effebico, è castrato, è castrato, sì, ma non ho mica paura che mi culi, ho paura che, ecco, allora, allora, insomma, rispetto a Mercury, agli uomini con le palle, è il tuo giorno sta più succhezzo, Rocketman è un buon film, il finale nonostante tutto, emozione, I'm still standing, better than I ever did, di mio ascolto tutta la musica, tranne Ligabue con Elisa, la cantante, mi piace, però, volente, non lente, il telefono che squilla sempre, solo notizie belle, e bella compagnia, e storia, bella storia, bella storia, e quell'altro, abbiamo Gali, in Good Time, Meglio Good Time con Robert Pattinson, ecco, allora, passando da Bob Marley a Fedez, io sono un uomo fedele, vi dico in tutta fede, che non fu mai infedele, ma ascolto comunque, fedelmente, sì, Fedez, con la Z, la Z di, Zoccola, che allora, non ho però i soldi per vivere, ecco, in una villa a Londra, per amare, tra virgolette, Chiara Ferragni, Chiara Ferragni, non ho la Ferrari, ma di notte, mangio sempre i cioccolati di Ferrero, sì, perché questo Ferrero qui, ha i soldi per la Ferrari, e potrebbe stare anche con la Ferragni, ma siamo sicuri che questa Ferragni, non sia stata anche con, il proprietario della Sabdoria, o no? Allora, se non vi sta bene, credete al Covid, e non ascoltate, mi raccomando, Elvis Presley, assomiglia un po' però, a Gesso, quello di Beverly Hills, 9210, o a Luke Perry, ho detto tutto, sì, la società cosiddetta progressista, è migliorata, certo, certo, se passate da, insomma, da queste serie televisive, poi c'era Marrow's Place, Bayside School, insomma, vabbè, oggi spopola in radio personaggini, come Silviano Tarciacomo, che è stato con, Ermal Metal, Ermal Metal, non con uno del metal, un metalaro qualsiasi, è stato un uomo romantico, per fare carriera, ma ecco, e Katia Follesa, Alvin e Katia, ai miei tempi c'erano, un mille shiro, due cuore, una palla a volo, o lì e Benji, sì, è vero, Alvin e Katia, so che ai miei tempi, sì, sì, io sono un dio, no, ai miei tempi, amici, mi attizzava la speaker dei guerrieri della notte, buongiorno a voi, supermuscoli, la caccia ai guerrieri è finita, quei ragazzi, non avevano commesso il fattaccio, su, nel Bronx, hanno dovuto combattere e difendersi, tutta la notte solo per salvare la pelle, beh, ci dispiace davvero, non ci resta altro da fare, che mettere su una bella canzone, di Alton John, no, vogliamo ascoltarla, ci colleghiamo su Netflix, scusate, adesso, al solito arriverà una notifica, che rovinerà la registrazione, poi mi dedicherò oggi pomeriggio, di nuovo, alle registrazioni del mio audiolibro, anzi, al mixaggio audio, Netflix, vi ricordate questo film? credo che non ci starò dentro, dai però, è che Netflix è lentissimo, capita anche a voi? ricercate, no, nella ricerca, allora, palle, che palle, qui abbiamo Warrior, con Joel Eggert, ma non Warriors, non prende mai, allora, oh, finalmente, la connessione dei vostri cervelli, funziona, 27 minuti, non ce la faremo, ce la faremo, non ce la faremo, non ce la fa, e non ce la fa, no, no, non ha le qualità, no, 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 buongiorno a voi, supermuscoli, la caccia ai guerrieri è finita, quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su, nel Bronx, hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle, beh, ci dispiace davvero, non ci resta altro da fare che metter su una bella caccia, metter su, non mettere, metter su, devo correggere, metter, metter, è un film della mia epoca, ce la faceva scupata, ce la faceva scupatella, ah, su, vai,